Una doppietta dell'ex di turno Scappini, la paura del ritorno a Ravennate con il gol di Sciaccaluga, occasione da una parte all'altra, frutto maturo di una partita vincente tra Alessandria e Ravenna, il tecnico Sarri. Ha fatto un plauso ai ragazzi perché anche oggi hanno fatto una buona partita e quando c'è stato da stringere i denti hanno sofferto fino al risultato finale. Ma andiamo alle principali azioni di gioco. Al ventiquattresimo del primo tempo l'Alessandria si porta in vantaggio grazie all'iniziativa di Bondi che mette Scappini nelle migliori condizioni per battere Rossi. Il raddoppio al quattordicesimo della ripresa sempre con il tandem Bondi-Scappini, quest'ultimo perfetto nell'esecuzione al volo. Ma al trentaquattresimo sassata del navigato Sciaccaluga da 25 metri che gela Servili, l'Alessandria trema ma reagisce nel finale e ritrova anche il giusto mordente per mettere in difficoltà i Ravennati. Forse il risultato più giusto poteva essere un pareggio, però gli episodi determinano, ripeto, al cospetto di un'ottima Alessandria.